Che c'hai? Stai a fare? Devo far forza, devo fare resistenza, devo far forza, devo fare resistenza Devo far forza Ed eccoci di nuovo qua nella serie I 5 errori da non fare se vuoi arrampicare senza faticare Oggi parliamo del secondo errore Rimanere con la schiena storta, curva L'arrampicata istintuale, cioè Quello che diciamo di approccio Viene da fare quando uno arrampica Quindi quello che ti viene da fare istintivamente È quello di avvicinarsi più, prendere con le mani Avvicinarsi più possibilmente con la testa E inarcare la schiena In questa maniera è complicatissima La gestione dell'arrampicata Oltre a sforzarsi in maniera incredibile Quindi si perde completamente la gestione del peso E quindi si perde forza E in più si perde il contatto visivo con la parete Quindi non ci si rende più conto di dove uno deve andare La soluzione risiede in come siamo fatti Cioè l'essere umano è di fatto Viene determinata la sua postura Cioè la postura è retta Questo cosa vuol dire? Vuol dire che scarica il peso Attraverso una linea longitudinale Un asse, chiamato Che attraversa il corpo dalla testa ai piedi La maggior parte di questo asse viene mantenuto dalla schiena Di questo cos'è rappresenta fondamentalmente? Rappresenta che la direzione del peso E quindi la gestione della forza Perché in questo caso è spostamento di peso E quindi la forza che noi riusciamo a esercitare È proporzionare la nostra capacità Di direzionare, di dare un'unica direzione al peso Perché? Perché al momento in cui noi facciamo una curva La direzione del peso incomincia ad andare verso la tangente E quindi andiamo a disperdere forza Questo ovviamente non implica il fatto che tu debba stare sempre impalato Sempre dritto Anzi, la schiena fondamentalmente è composto da tante vertebre E quindi è un sistema articolare Questo che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui è necessario per dirti alzare un piede Uno si incurva per dopo riacquisire E riscaricare il peso sul nuovo appoggio Quindi l'utilizzo corretto della schiena è questo È contrazione, espansione Contrazione, espansione In questa maniera abbiamo la respirazione Non solo dal punto di vista volmonare Ma anche dal punto di vista fisico E dal punto di vista muscolare Da tutti i punti di vista Quindi riusciamo ad esprimere movimento E in questa maniera non si parla più di forza Ma si parla di potere Una volta determinato l'asse Non è finita qua Perché questo cosa vuol dire? Che noi siamo un asse Ok? Quindi riusciamo a scaricare bene il peso Però ci relazioniamo con un altro piano La relazione fra due piani Attenzione che queste Se noi siamo così E la parete in questo caso è questa Non possiamo metterci in questo modo Questo modo è parallelo Parallelo vuol dire che non hanno intersezione Vuol dire che non c'è scarico di peso Quindi se noi vogliamo fare in modo Che il nostro peso non solo venga direzionato Ma sia scaricato sulla parete Da qualche parte Fondamentalmente dobbiamo inclinarci per dietro E quindi cambiare l'assetto Da diciamo quello che è Normalmente la postura eretta A cambiarlo aumentando l'inclinazione per dietro In questa maniera Noi generiamo un angolo di incidenza Che favorisce lo scarico del peso Questo che vuol dire ovviamente Non è che possiamo completamente arrampicare così Ma è qui che intervengono le braccia Le braccia servono a mantenere questo angolo A gestire e mantenere questo angolo E quindi a fare in modo di non cascare all'indietro Come possiamo vedere al momento Io contengo la distanza Vedete? Arrampico in questa maniera Utilizzando le posture E non andando mai A usare la forza Il minimo indispensabile Ecco qua Per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti Iscriviti al canale Marco Nescatelli E clicca sulla campanellina Così ti arriverà una mail Ogni volta che caricherò un nuovo video Per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti Per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti